Soprattutto davanti, hanno veramente faticato nel riuscire a contrastarli. Qual è la tua analisi di questa gara Luca? Il risultato li penalizza, ma è comunque una gara che ha offerto diversi spunti su cui possono lavorare. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie a te Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.